Il mio voto a questo film è 7 Ho dato questo voto perché mi è piaciuto il film Il genere è drammatico, la durata è 1 ore e 49 minuti L'attore è Jack Nicholson, bravo attore Il regista è Mike Nichols, bravo regista, la regia è buona Saluto Samu Brina, Cita Alice Ottola, Mark Kolf, Mariuccia, Ilaria, Magellan Aria, Micodiale, Gianluca, Festival Michi, Rob, Bitoni, Cante, I Surralli, Dani Elios Il Triomedusa, Pia, Domenico, Leo Tassoni Daniele, The Rock, Horto, Bulluni Ivan Drago, Peter, Tim Giulia, Alessio Uga Kevin, Gigi Michele Trigiani, Favij, Picchiatore Telefin122, Alessandro Bidoni MrBikeTV, il canale PNC Rentboy Henry, ragazza di Henry Nico Rota Fabio Guardate questo video Lasciate dei commenti Lasciate dei like Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram Arrivederci al prossimo video Spero che questo video vi sia piaciuto Grazie a tutti